ciao a tutti come sono? ciao a marcio ragazzi buon appetito a un nuovo video oggi ragazzi andate qua dove stiamo? ooooooooh ma che è qua? ma dove siamo? oggi andremo a visitare tutto il villaggio ma non tutto sono appena tornato dal mare poi domani vedrete un vlog questo è un vlog proprio al mio villaggio voi dovete andare al vlog al mare mi raccomando ragazzi oggi questo video mi piace mi raccomando e questo video video vlog su un video vlog ragazzi ora ci vediamo dopo e io vi porto a bella ragazzi stiamo qui stiamo camminando stiamo andando a trovare troppo che è lì ragazzi ragazzi che figa ma non la devo vedere vai andiamo aspetta ma guarda quelle dai che applaudono ci sta un animatore in mezzo ma ragazzi non capisco l'altro ragazzi mi raccomando il video vlog lo sento bene ma che è ma che è quello in golone ragazzi aggiornamenti più tardi bella ma finalmente siamo qui siamo qui la provincia è stata grande questo villaggio e spero che questi vlog vi piaccia ma poi non avremo soltanto quel vlog avete avuto vlog di altri saluti avrete altri saluti scrivete pure il canale di Giuseppe Mormida ancora papadio Mattia Mormida ciao ragazzi ragazzi una bambina ragazza una bambina ragazza che ho ieri ciao faccio vedere loro faccio vedere loro il mare guardate qua guardate qua qua vi dovete vedete vedete domani c'è un vlog guardate qui dove c'è faccio vedere 4 2 1 andate vedete 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 si può rio una cosa bellissima poi ho ancora il minghetto questo villaggio e ciao 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 saluto bella campione